Bene, siamo sempre a Mango, praticamente nel cuore delle langhe, una persona che veramente ne sa, ne sa, la vive, la langha e chi più di lui può così dare un messaggio ai nostri amici di musica maestro? Donato, ciao, un grazie. Lui non è di quello che si dà ai media facilmente e sono orgoglioso di ospitarti in questa nostra trasmissione. Bene, a te la parola. Allora, io sono felice di poter parlare delle langhe, abbiamo dato vita 27 anni fa ad un'associazione proprio nata qui a Mango nel 1987, è un'associazione a cui abbiamo dato il nome Arvange, l'idea era di fare in modo che la cultura, la storia, il folklore, le tradizioni di questo territorio contassero, che avessero risalto, che avessero vetrina, che potessero far arrivare la gente anche su queste nostre contrade, in questi paesi in parte spopolati e in questi anni di lavoro ne abbiamo fatto molto, in particolare ci siamo un po' preoccupati di questi percorsi letterari, due grandi scrittori, Cesare Pavese a Santo Stefano e Beppe Fenoglio, diciamo che partendo da San Benedetto Belbo, per Murazzano, per San Bovo di Castino, si arriva qui a Mango dove c'è stato questo allestimento dedicato al partigiano Johnny e c'è quindi un museo en plein air, diciamo che è possibile vivere camminando per il paese e ricongiungendosi con quelle che sono le frazioni di questo paese che sono importanti, oltre a quella di San Donato di Mango, la frazione Olano, la frazione dei Bosi, che sono poi le frazioni di questa Langa del Moscato, che danno vita a questo paese. Allora i percorsi che stiamo cercando di proporre sono percorsi dove oltre allo scorcio paesaggistico, al luogo di degustazione, andiamo a recuperare le storie, le storie che sono state la linfa vitale di questi due grandi scrittori, le storie di fatica, le storie legate a personaggi eccentrici, le storie di fatti realmente accaduti in periodo di guerra, le storie che hanno alimentato il mestiere di scrivere sia di Cesare Pavese che di Beppe Fenoglio, fornendo a loro la materia prima. E ci sembra importante che chi viene a scoprire queste nostre colline, oltre a quello che è l'orizzonte ampio di queste colline, possa attingere anche in profondità a quelli che sono gli elementi della narrazione che hanno dato successo alle opere di Cesare Pavese prima e di Beppe Fenoglio dopo. Nella misura in cui noi saremo capaci di far stare insieme i prodotti, le storie, la bellezza del paesaggio, penso che potremo offrire delle visite guidate indimenticabili. Donato, scusa un attimo, un punto di partenza, uno che abita a Torino e vuole conoscere la Langa, un inizio, perché possa essere coinvolto in tutte queste belle iniziative. Allora, io a uno che sta a Torino, che viene a conoscere i luoghi fenogliani, dico troviamoci a San Benedetto Belbo alle 11 del mattino. Visitiamo questo percorso fenogliano fino a Cadilù, al Gorgo, al centro del paese, per riscoprire il personaggio della maestra, di Superino, dell'esattore di Gniella. Andiamo a vedere l'accensa di Placido Canonica che ha ispirato a quel bellissimo racconto Un giorno di fuoco sulla storia dei Gallesio. Poi da San Benedetto raggiungiamo Murazzano. Murazzano è un paese ricco di storia, ci sono chiese, ci sono monumenti, ci sono palazzi, c'è la torre del periodo medievale. Ecco, in questo paese respiriamo un'altra aria. Poi partiamo da Murazzano e andiamo a San Bovo di Castino, dove c'è la famosa struttura del pavaglione che sta diventando un centro museale. E lì veramente seguiamo il percorso di Agostino, Agostino che da San Benedetto Belbo era andato, diciamo, garzone, aiutante, a lavorare nella casina di Tobia al pavaglione. Non si può non finire con Mango perché poi Mango è al capolinea di questo percorso. Bene, adesso ci assaggiamo due colombe perché avremo ancora qualcos'altro di interessante da sapere da donato. Penso di sì. A dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.